Buongiorno, benvenuti al Focus Tg, siamo in diretta anche oggi per informarvi su quel che sta succedendo in Veneto. Parleremo di cronaca, di emergenza coronavirus, di maltempo perché come era stato annunciato l'ennesima ondata di maltempo si è abbattuta su varie zone del Veneto causando anche questa volta allagamenti e danni. Parleremo di tutto quello che è successo nelle ultime ore, cercheremo di fare anche qualche previsione soprattutto dal punto di vista meteorologico per questo weekend che ricordiamo, l'ultimo weekend di agosto. Quindi ci sono altri temi che si innestano sulla cronaca come per esempio il rientro dalle vacanze di moltissime persone che hanno trascorso le ultime settimane qualcuno all'estero con tutti i problemi del caso, qualcuno in Veneto e quindi qualche disagio per la viabilità si sta già registrando. Allora prima di iniziare noi sappiamo che stiamo aspettando un collegamento da Padova con la nostra Valentina Visentin che deve aggiornarci su un evento molto importante per la città ovvero l'abbattimento dell'ultima delle palazzine di via Anelli. Valentina è stata sul posto questa mattina, ci ha già mandato i contributi per poter poi farvi vedere bene le cose di cui parliamo quindi come sempre un'informazione in diretta con anche i video, le interviste, tutto quello che c'è da dire su questo momento. Mentre aspettiamo Valentina Visentin che dovrebbe arrivare parliamo un po' di emergenza coronavirus che sarà uno dei temi portanti della giornata perché c'è arrivato pochi minuti fa il bollettino dell'azienda Zero della Regione Veneto. Vediamolo insieme allora finché non ci colleghiamo con Padova. Vedete il delta ovvero il numero dei casi positivi in più rispetto all'ultima rilevazione è salito a quota 101 ovvero ci sono 101 casi in più di ieri sera. Quel che dà un po' da pensare è che sono distribuiti, non è più un unico focolaio grosso come è successo nelle ultime settimane per esempio con i fatti di Treviso o con Padova ad aumentare esponenzialmente il numero delle persone positive. E invece una serie di piccoli focolai perché vediamo a Padova ci sono 5 persone positive in più a Treviso 31, a Venezia 31, a Verona 10, a Vicenza 15, a Belluno 4, Rovigo 3, poi ci sono i vari domiciliati fuori dalla Regione e nessuna assegnazione ancora in corso. Questo porta il numero dei casi attualmente positivi a quota 2345. Diamo un'occhiata al report di ieri, ve lo facciamo vedere così vediamo esattamente. Allora ieri vedete il numero dei casi positivi di ieri era 2285, oggi siamo a 2345. Le persone che hanno perso la vita negli ospedali e nelle strutture extra ospedaliere del Veneto sono complessivamente 2120. Andiamo a vedere anche qui il dato di ieri era 2119, quindi abbiamo avuto un decesso nelle ultime ore. È difficile scoprire dove, senza dati sotto mano, cercheremo di farvelo sapere appena possibile. I negativizzati sono 18290, sono le persone che essendo risultate positive al primo tampone sono poi risultate negative ai due tamponi successivi. E il totale dei casi in tutta la Regione è 22755, ieri erano 22654. Questa è la situazione pura dei dati che ci sono arrivati dalla Regione del Veneto. La seconda parte della tabella andiamo a vederla fra poco assieme perché vediamo che è in ingresso nella nostra strumentazione Valentina Visentin da Padova che però ha qualche problema. Quindi l'aspettiamo e andiamo avanti. Allora chiedo a Fabio Verini, regia, sempre puntualissimo nel seguirci con tutte queste tabelle che possono essere molto complicate da gestire. Questa è la situazione degli ospedali. Allora, i pazienti positivi in area non critica sono complessivamente 136, scusate, i pazienti in area non critica complessivi sono 136. Di questi 54 sono positivi ancora e 82 sono negativizzati. Di questo dato parleremo fra un attimo perché abbiamo la nostra Valentina Visentin in collegamento da Padova. Valentina, buongiorno. Vediamo che hai risolto quei piccoli problemi tecnici che ti impedivano di collegarti qualche istante fa. Cosa succede a Padova? Qual è la situazione? Sì, vi raccontiamo oggi dell'abbattimento dell'ultima palazzina dei Vianelli. Tutti a Padova conoscono Vianelli, viene considerato il Bronx, era considerato il Bronx di Padova. Salì agli onori della cronaca 13 anni fa per il famoso muro antispaccio che fu fatto costruire dall'allora sindaco di centrosinistra, Flavio Zanonato, una barriera di lamiere che doveva impedire il costante spaccio di droga nel quartiere. Ebbene oggi si è conclusa l'abbattimento di tutte le palazzine, ha iniziato infatti la demolizione dell'ultima palazzina. Ci sono anche delle immagini che abbiamo registrato. Le facciamo vedere mentre tu ci racconti Valentina, prego. Sì, infatti vedete la benna della russa che ha iniziato questa mattina alle 10 a demolire l'ultima palazzina verde che costituiva il complesso Serenissima di Vianelli, una demolizione che è avvenuta sotto lo sguardo ovviamente di noi cronisti, ma del vice sindaco Andrea Michalizzi e del comitato Stanga che in tutti questi anni si è battuto proprio per la risoluzione di questa vicenda perché Vianelli insomma rappresenta un po' una delle zone più degradate di Padova ebbene lì dove nel prossimo futuro... Andiamo avanti, andiamo avanti, continuiamo a vedere il video anche se non ha una durata eccessiva. Valentina, ti abbiamo perso, ci stavi dicendo? Sì, da un luogo di illegalità come era considerata Vianelli a un luogo di legalità perché lì sorgerà la questura infatti proprio il 9 dicembre scorso abbiamo seguito in diretta all'inizio di questo lungo procedimento di abbattimento di tutte le palazzine era presente il vice ministro dell'interno Mauri proprio per rassiglare di fatto questo protocollo perché l'area poi di proprietà del comune passerà nelle mani del demanio per la costruzione della nuova questura Liter che ha portato a tutto questo è stato piuttosto lungo perché lo ricordavamo oggi insieme agli altri conisti al comitato Stanga esattamente 13 anni fa a luglio venne sgomberata definitivamente l'ultima palazzina poi tutto chiuso, abbandonato al degrado e il duro e lunghissimo iter di acquisizione di tutti gli appartamenti da parte del comune per entrare definitivamente in possesso di tutta l'area che poi con una permuta viene stata cambiata insieme al demanio il comune da parte del demanio ha acquisito l'area dell'ex Prandina e ha dato in cambio al demanio l'area di Vianelli proprio per la costruzione della nuova questura quindi un iter lunghissimo che per noi padovani abbiamo sempre seguito perché Vianelli fa parte della storia di Padova da quartiere universitario nel bene e nel male fa parte della storia di Padova effettivamente fa parte della storia di Padova anche il muro purtroppo è stato a livello nazionale comunque se ne è sempre molto parlato di questo muro antispaccio che poi è stato dipinto dall'artista padovano Gioacchino Bragato che doveva risolvere inizialmente questa situazione che poi invece non si è mai completamente risolta fino a quando le palazzine sempre per decisione dell'ex sindaco Zanonato non furono completamente sgomberate 13 anni fa Valentina prima di lasciarti andare ci ricordi un po' il crono programma quando si potrebbe arrivare all'inizio dei lavori della nuova struttura a questo punto? Beh adesso c'è ovviamente visivamente l'impatto è cambiato perché le palazzine non ci saranno più però poi c'è anche un'importante opera di bonifica dell'area perché è vero che sono già state smaltite tonnellate di... Tonnellate di... lo sapremo fra poco aspettiamo Valentina oggi probabilmente mal tempo o qualcuno ci ha messo la manina e non non riusciamo a tenere un collegamento molto lungo con Valentina Visentin siamo certi si ricollegherà con noi fra qualche istante intanto vi facciamo un breve riassunto abbiamo visto da... da Valentina ti abbiamo perso ti sentiamo molto molto male Valentina andiamo avanti andiamo avanti ci si ricollegherà Valentina Visentin per finirci quello che è il quello che si è visto da Padova allora la notizia da Padova principale di questa giornata in questo momento è legata all'abbattimento dell'ultima delle palazzine di Vianelli un momento storico per la città Valentina Visentin ci ha fatto tutta la cronistoria e eccola qui Valentina visto che oggi forse anche a causa del mal tempo non teniamo la... non teniamo il collegamento concludiamo volevo solo di via adesso di sera l'opera di di tutti i fiuti e di tutti i calcinacci dovuti alla demolizione e poi insegna i bandi per la realizzazione dei lavori però di fatto sarà il demanio che renderà il cronoprogramma per la realizzazione della nuova costruzione allora ringraziamo Valentina Visentin bravissima come sempre nonostante la tecnologia si metta di mezzo per farci lo sgambetto Valentina che sappiamo che ci sente se ci saranno notizie di cronaca da Padova non esitare a ricontattarci in qualsiasi momento noi siamo qui fino alle 13 per eh informare i nostri telespettatori su quello che sta succedendo in Veneto in Veneto e naturalmente anche a Padova allora questo era il punto da Padova eh torniamo a finire di vedere la tabella un attimo che sia quella giusta sì allora abbiamo visto ehm saltiamo un po' di farla in frasca perché dobbiamo concludere questa parte molto importante introduttiva della della nostra giornata di informazione eh 136 eh ricoverati in area non critica come sempre ve lo ricordiamo l'area non critica è destinata alle persone che non sono in gravi condizioni non necessitano di una terapia intensiva di un letto di terapia intensiva di queste 54 positive 82 negativizzate i pazienti attualmente eh in terapia intensiva sono nove eh sembra che il dato andiamo a vederlo rispetto a ieri saltiamo da una tabella all'altra perché è importante fare fare il confronto vedete nove ieri nove oggi eh il dato è perfettamente identico sono nove sono eh tre negativizzate sei ancora positivi di questi positivi due sono a a Padova uno è a Belluno uno è a Dolo uno è a Vicenza e uno è a Legnago questa è la situazione vediamo il confronto con le con le giornate precedenti due persone in meno in area non critica nessuna variazione questo l'abbiamo già visto in terapia intensiva un decesso in tutto il Veneto questa era la tabella eh arrivata ci pochissimi minuti fa dall'azienda zero della regione del Veneto sulla situazione del coronavirus sull'emergenza coronavirus dovrebbe arrivare a minuti anche la tabella eh degli isolamenti eh domiciliari che è molto molto importante perché mh ci fa capire quanti tamponi vengono fatti e quante persone vengono raggiunte nella nei contatti diciamo di quelli che sono i focolai fonti di stampa di cui però purtroppo al momento non abbiamo la conferma perché ci manca proprio il bollettino eh digitale o cartaceo della regione parlano di mh un migliaio di persone in isolamento domiciliare in più sarebbero 1.023 rispetto agli ultimi dati in isolamento domiciliare sarebbero ora 8.000 e qualcosa di più persone un numero che cresce ogni giorno abbiamo visto giorno precedente era cresciuto a causa dei rientri soprattutto dalla Sardegna di un gran numero di turisti veronesi che erano stati eh bloccati fermati nelle loro abitazioni fino all'arrivo dei risultati dei tamponi un migliaio di persone in isolamento domiciliare in più insomma è un dato che comunque fa riflettere vuol dire da una parte che c'è molta attenzione dall'altra che la regione sta facendo tamponi a tappeto per capire come si sta muovendo l'emergenza coronavirus dall'altra che qualche caso c'è ancora ultima considerazione prima di andare in pausa avete visto gli ospedali e le terapie intensive in generale reggono non ci sono dati in più questo secondo gli addetti ai lavori vuol dire che il virus si sta comportando in maniera un po' un po' diversa si sarebbe abbassata l'età media delle persone colpite addirittura scendendo sotto i 40 anni bisogna stare attenti avete visto nei giorni scorsi focolai manifestazioni che diventano focolai di coronavirus o presunti tali quindi l'attenzione da prestare sempre altissima mascherina genizianizzanti distanziamento sociale e tutte le precauzioni del caso come negli ultimi mesi altrimenti i rischi sono fortissimi detto questo noi facciamo una breve pausa ma state con noi perché torniamo fra pochissimo con tutta la nostra informazione buongiorno benvenuti a focus tg bentornati a focus tg siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in veneto e andiamo subito al volo in centro a bassano perché abbiamo il nostro mirko cavallin che si collega con noi via skype dalla piazza di bassano vediamo è uscito che c'era il sole e ce lo ritroviamo adesso sotto l'acquazione mirko questa perturbazione ampiamente annunciata che ieri non ha sganciato praticamente neanche un millimetro di pioggia sulla pedemontana invece oggi è arrivata puntuale è arrivata non siamo ancora a livello acquazzone c'è solo qualche goccia di avvisaglia e la gente c'è un po di fuggi fuggi dal mercato alle mie spalle in piazza libertà qualche ombrello qualcuno è stato prudente partito con l'ombrello da casa noi un po meno ma abbiamo parcheggiato in posto abbastanza comodo per poi rientrare velocemente sì ci sono già dalla mattina grossi nuvoloni che si hanno accumulati caricati sulle pendici del grappa e un po su tutta la pedemontana segno che l'allerta meteo diramato ieri dalla protezione civile con allerta gialla in alcuni casi arancione per il pomeriggio di oggi la sera fino a mezzogiorno di domani insomma sembra trovare conferma qualche previsione tra le peggiori Mirko dobbiamo interromperti perché improvvisamente siete diventati verticali una cosa che può essere divertente ma che insomma può essere anche un po' disorientanti per i nostri telespettatori sistemiamo un attimo al volo il problema noi intanto vi ricordiamo siamo in collegamento dal centro di eccolo lì siamo così così va bene così dovrebbe essere ok Mirko dicevamo dicevamo appunto di questa allerta gialla in alcuni casi arancione per oggi pomeriggio fino a domani mezzogiorno diramato dalla protezione civile regionale e oggi oggi proprio oggi proprio non vuole mettersi a lavorare bene skype ci riproviamo Mirko eccoti qua dicevamo l'alerta meteo adesso ti vediamo bene noi nel fratello mentre tu parli facciamo vedere così siamo sicuri di non aver sorprese parla spiegaci mentre noi facciamo vedere la mappa arpa dei temporali in arrivo dicevo allerta arancione in diversi distretti del veneto per le forti precipitazioni grandinate e anche raffiche di vento che sono attese per il pomeriggio di oggi già adesso c'è un po di vento in più rispetto a stamattina alcune previsioni danno le condizioni per parte della pianura veneta quindi veronese vicentino e padovano fino al mantovano quindi la parte tra veneto lombardia ci sono le condizioni per 20 fino alla classe f4 c'è una scala dei tornado diciamo così ormai possiamo chiamarli così una scala che va da 1 a 5 il 4 è appunto uno dei più alti poi c'è il 5 che ha capacità distruttiva il 4 è potenzialmente interessato appunto in alcune zone del del territorio speriamo ovviamente di no ieri mattina proprio in durante il focus tg davo conto del dell'avviso del dell'assessore della protezione civile di vicenza che raccomandava ai vicentini ma a questo punto estendiamo l'invito raccomandava di mettere al sicuro tutto ciò che è all'esterno e può potrebbe volare via con certo e con il vento e di sollevare dalle cantine tutte le cose che vanno salvaguardate per evitare appunto allagamenti nel corso del pomeriggio della sera allora mirko l'immagine che abbiamo appena visto è un'immagine dei un mix di di radar dell'arpa la vedi anche tu no tu non la vedi perché hai il telefono dall'altra parte comunque ci sta mostrando un fronte temporalesco che sostanzialmente va da cremona fino a insbruck questo è il il fronte e diciamo che prende tutto il veneto in in altezza e se dovesse decidere di muoversi verso di noi potrebbe essere effettivamente problematico di questo parleremo poi nel seguito del nostro telegiornale mirko invece dal centro di bassano avete già avuto modo di parlare con i bassanesi per sentire il polso della situazione sull'emergenza coronavirus hanno paura non hanno paura allora ci sono diversi sentimenti c'è chi effettivamente un po impaurito magari perché ha qualche problema fisico cito un caso di albi asma ad esempio c'è qualcuno che è preoccupato per i bambini per la scuola tutti quelli che abbiamo interpellato comunque avevano la mascherina addosso anche se magari qualcuno non è pienamente d'accordo sull'uso della della mascherina qualcuno aspetta il vaccino abbiamo incrociato una coppia francese che dice sono stupito di come qui in italia in molti posti anche qui a bassano oggettivamente una parte delle persone anche in luoghi con tanta gente assembrata come può essere il mercato cittadino una parte delle persone significativa comunque non indossa le mascherine in francia ci diceva questo turista la situazione molto peggiore che in italia tanto che la mascherina è obbligatoria anche a scuola le scuole in francia sono già riprese perché cominciano normalmente prima con subito dopo la metà di agosto e quindi sul lato dei nostri cugini d'oltre alpe insomma c'era qualche preoccupazione in più diciamo che i sentimenti sono diversi abbiamo chiesto anche sulle strette di mano diciamo i convenevoli consueti ebbene quasi nessuno esclusi i congiunti parenti insomma usa più la stretta di mano gli abbracci ci si limita al gomito come siamo abituati a fare o a vedere oppure a un saluto a distanza noi ringraziamo mirko cavallin che è in centro a bassano per tutte queste informazioni poi le rivedremo nella tg di questa sera approfondite sappiamo che mirko adesso si vedrà la mascherina perché abbiamo visto che se l'è tolta appena prima del collegamento eccola lì per proseguire visto che l'assemblamento è sempre dietro l'angolo in un mercato più che naturale se ci saranno informazioni di cronaca da bassano non esitate a ricontattarci noi siamo in diretta finale 13 grazie mirko buon lavoro buona giornata più tardi allora torniamo in studio quest'era questo era il collegamento da bassano avete visto abbassano ad esempio piove cosa che non stava succedendo a padova poco fa con valentina visentin ma secondo le quelle che sono le informazioni dell'arpa pare che tutto il veneto sia destinato a incontrare un po di maltempo nelle prossime ore vi facciamo rivedere la la mappa così ve la spieghiamo un attimo questa è la mappa arpa aveva una serie di di radar messi assieme che mostra l'andamento di questo mostro tra virgolette meteo vedete la forma della del veneto la mettiamo ben bene in mezzo mostra l'andamento dalle 9 e 10 in poi questo è alle 10 questo è alle 11 e questo è alle 12 si sta un po muovendo su se stesso questo fronte immenso temporalesco che abbiamo visto vada in sbruca a cremona potrebbe prendere tutto il veneto qualche temporale c'è giallo vedete qui siamo in friuli qui naturalmente sui colli ugani dove ha già fatto parecchi danni ieri sera ma della dei danni causati nel padovano e anche nel veronese abbiamo dei video impressionanti delle ultime ore parleremo fra poco perché adesso noi facciamo una brevissima pausa però state con noi torniamo davvero fra pochissimo buongiorno bentornati a focus tg siamo in diretta anche oggi per informarvi di quel che sta succedendo in veneto abbiamo parlato di maltempo abbiamo parlato di emergenza coronavirus abbiamo parlato di abbattimenti delle delle strutture di via anelli a padova stiamo facendo una carellata di quel che è successo rimaniamo a padova perché ieri il l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul veneto ha colpito in particolar modo l'area delle terme vicino al capoluogo se abbiamo un contributo facciamolo partire perché sono oltre 40 le richieste arrivate alla sala operativa di vigili del fuoco per prosciugamenti danni causati dal forte vento con caduta di rami piante ed elementi pericolosi soprattutto nella zona dei colli ugani richieste di intervento questi sono i dati ufficiali dei vigili del fuoco dei comuni di teolo cervarese santa croce rovolon abano terme e selvazzano dentro vediamo possiamo vedere nei video quel che è accaduto questo probabilmente un fulmine forse che ha scheggiato addirittura un albero alberi divelti forte vento un ulivo poveretto schiantato schiantato a terra questo è quello che è successo a Padova sono già in corso le operazioni di sistemazione da parte dei vigili del fuoco che stanno tagliando un numero impressionante di alberi non si registrano fortunatamente danni a persone danni a cose di sicuro perché un numero così alto di alberi caduti qualche danno di sicuro l'ha fatto poi fra poco avremo in collegamento il nostro guido barbato che sappiamo è in giro per la provincia di Padova per raccogliere informazioni su questa ennesima ondata di maltempo che ha colpito il Veneto queste erano le immagini da Padova tra i colli ugani capiremo poi se è stata circoscritta solo i colli o se si è sfogata anche in altre zone questo potrebbe essere addirittura uno dei golf club della provincia di Padova non lo sappiamo che ci spiegherà poi guido barbato e invece danni ben più gravi li ha fatto il maltempo che si è abbattuto su Verona e Limitrofi ancora una volta dopo l'ondata dei giorni scorsi è tornato vediamo qualche immagine anche senza audio perché sappiamo che l'audio di queste immagini non era ottimale quando ci è arrivato quindi magari ve le commentiamo noi questo è il quartiere Parona di Verona ancora una volta sott'acqua vedete questo è dopo il temporale questo è al termine dell'ennesima bordata di pioggia che ha colpito Verona e zone vicine il quartiere di Parona vedete quanta acqua c'era le persone con gli stivali un tombino appena aperto che sta facendo defluire una quantità impressionante di acqua a questo punto crediamo che le cosiddette musine fossero intasate forse ancora intasate dalla precedente a un data di maltempo guardate come come defluisce l'acqua ma ce n'è lì da far da far defluire non abbiamo ancora informazioni sui danni però ci hanno detto che molti dei negozi molte delle attività commerciali della zona si erano comunque premurate di installare delle paratoie davanti agli ingressi davanti alle porte quindi che forse non tutta questa acqua è entrata anche dentro però dalle facce dalle espressioni delle persone siamo certi che non sia andata proprio benissimo benissimo questa è Parona siamo nei pressi di Verona Verona già colpita devastata dall'ondata di maltempo questa è l'acqua che corre e ancora una volta l'immagine di queste ultime settimane da Solagna da Pove da Verona dai Colli Ugani tantissima acqua che che corre vuol dire che le precipitazioni intensissime delle ultime ore di questo periodo di agosto non riescono più a essere gestite dal territorio vedete quanta acqua sporca scende quindi quando scendono 60 70 80 mm di pioggia in pochissimi minuti come è accaduto a Verona ma dicevamo prima anche a Pove Solagna Bassano del Grappa Bassano del Grappa addirittura scantinati allagati con un metro metro e mezzo d'acqua Pove Solagna c'è chi si è trovato con la cantina completamente sommersa 3 metri d'acqua in cantina perché l'acqua scendeva vedete addirittura c'è una sorta di moto ondoso anche qui acqua in una struttura ospedaliera tantissime tantissime immagini Torniamo pure in studio questo era Verona questo era il maltempo delle ultime ore abbiamo visto anche i Colli Ugani fortemente danneggiati in questo caso dal vento e su quel che è successo nelle ultime ore abbiamo parlato anche con Coldiretti la soluzione di categoria dei coltivatori e degli agricoltori per fare un po' il punto per capire se queste ondate di maltempo che si accaniscono in modo terribile sulle città creano gli stessi problemi anche in campagna sentite cosa ci hanno detto La nostra provincia di Vicenza fortunatamente è stata risparmiata anche dall'evento che ha colpito anche la provincia di Mitrofer abbiamo avuto delle buone precipitazioni d'acqua non so dai 20 ai 50 mm un po' diffuse in tutto quanto all'areale assistiamo purtroppo nell'ultimo periodo anche ad eventi estremi proprio si tocca con mano che siamo di fronte anche a avutamenti climatici Così il direttore di Coldiretti Vicenza traccia in estrema sintesi il bilancio dei danni in agricoltura nella nostra provincia rispetto alla vicina Verona e alla Valpolicella a Vicenza i danni sul raccolto non sono stati così ingenti mediamente Ancora in corso l'esatta conta dei danni ma poteva andare decisamente peggio questa volta ma c'è poco da consolarsi i repentini passaggi dei periodi siccitosi con alte temperature si alternano violenti rovesci con grandina e forte vento Cosa fare? Come intervenire? Sono questioni molto complesse di non facile soluzione Coldiretti però sottolinea ruoli e competenze Riconoscere anche il ruolo che ha anche l'attività agricola in alcuni territori per quanto riguarda la difesa idrogeologica quello che la presenza in certi territori pedi e collinari dell'azienda agricola possa veramente difendere quel territorio possa anche dare la garanzia di manutenzione di quel territorio per evitare danni ulteriori che ci possano essere quando ci sono precipitazioni che sono importanti e se arrivano su areali grandi sono difficili anche a gestire quindi un territorio ben coltivato con la presenza dell'uomo che ci ha una garanzia per tutta anche la cittadinanza A proposito di questi episodi vediamo l'ARPAV vedete venerdì 28 agosto ovvero ieri gli estremi nella pianura e nella pedemontana questi sono i dati estremi raccorti dall'ARPAV ve li leggiamo perché magari la grafica è un po' sgranata direttamente dalla pagina ARPAV allora la temperatura più alta vabbè siamo bagnolo di Po la temperatura più alta ormai non è più come nel periodo precedente temperatura minima 16 gradi e 7 il vento velocità massima il Lasi in provincia di Verona soffiava a 71 chilometri orari ed è questo che ha creato grossa parte dei problemi abbattimenti di alberi case con problemi al tetto edifici anche scoperchiati vediamo 71 chilometri che rispetto ai 105 chilometri del giorno di due giorni fa sono comunque un dato molto importante precipitazione cumulata massima 40 millimetri a Lasi quindi precipitazioni non intensissime poi andremo a vedere se i dati ci confermano questo comunque 40 millimetri di pioggia in 10 minuti un quarto d'ora sono in grado di rovinare la giornata a chiunque di creare danni davvero importanti in attesa di collegarci con il nostro Guido Barbato che dovrebbe essere qui a momenti noi cambiamo argomento e cominciamo a parlare di coronavirus di emergenza di quello che sta succedendo in Veneto dove l'emergenza non si placa andiamo a vedere cosa è successo all'Electrolux di Susegana Oggi c'è stato comunicato dal distretto dalla ASLA che c'è stata una lavoratrice un'operaia risultata positiva il covid e la stessa ASLA ha comunicato che era opportuno che altri lavoratori che lavoravano insieme a questa persona andassero immediatamente a fare il tampone Coronavirus la paura del contagio entra in un'altra grande azienda della marca dopo i tamponi effettuati ad alcuni lavoratori dell'Electrolux che erano entrati in contatto con operai della Trevalli di Vazzola l'esito ancora non si sa la positività di un'operaia di una linea di premontaggio apre un nuovo fronte sette operai che lavoravano a stretto contatti con la donna sono stati sottoposti a tampone l'attività della linea interessata è stata sospesa la lavoratrice contagiata che secondo quanto si è appreso era in quarantena fiduciaria per positività della figlia sarebbe risultata positiva al secondo tampone operaia che però lunedì era a lavorare e pertanto la preoccupazione dei lavoratori è che ci possa essere stato un contagio noi ci auguriamo di no hanno mandato a fare i tamponi avremo il risultato quanto prima e i lavoratori in tutti i casi finché non hanno il risultato negativo non rientrano al lavoro in attesa dei risultati dei test le RS1 non hanno intenzione di chiedere misure diverse da quelle concordate tra azienda e ULS chiaro è che se il numero dei positivi dovesse aumentare dovremmo prendere decisioni decisamente più drastiche che servano a tutela assoluta dei lavoratori non faremo l'operazione AIA questa era la situazione dell'Electrolux di Susegana fra poco altre informazioni sull'emergenza coronavirus perché volenti o non volenti bisogna comunque parlarne bisogna fare informazione noi questa sera nei telezionali di Rete Veneta vi faremo vedere anche qual è il sentimento delle persone in questo caso i bassanesi ma sono le nostre interviste per strada perché la gente comunque ha ancora un po' di paura ed è giusto che sia così naturalmente la paura è un buon motore per evitare di commettere errori anche gravi come quello di partecipare a manifestazioni importanti senza la mascherina o di non ingegnizzarsi le mani o di entrare nei negozi senza le dovute precauzioni detto questo noi facciamo l'ultima nostra pausa pubblicitaria state con noi perché torniamo fra pochissimo buongiorno bentornati al nostro Focus Tg siamo in diretta anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto in attesa del collegamento con Guido Barbato da Bastia di Rovolone per farvi vedere cos'è successo anche sui Colliugani con l'ondata di maltempo delle ultime ore allora abbiamo visto il maltempo ha colpito nei giorni scorsi ha colpito anche ieri e stando alle ultime informazioni che arrivano dall'Arpav e anche dalla regione dovrebbe colpire sia oggi che domani un po' macchia di leopardo forse perché i danni che potrebbero arrivare potrebbero essere non diffusi su tutto il territorio ma insomma un po' in alcune zone più in alcune zone meno naturalmente le aree più soggette a rischio idraulico e idrogeologico sono state avvertite quindi sono già state messe in allarme dagli avvisi del centro funzionale decentrato della protezione civile della regione del Veneto che ci ha avvertito abbondantemente nei giorni scorsi di quello che poteva succedere e in attesa di Guido Barbato vi leggiamo un'assa che è appena arrivata allora parlavamo di contro esodo viabilità Italia traffico molto intenso e code ma al momento non ci sarebbero criticità estreme ovvero ci sono alcuni snodi importanti come quello bolognese che sono un po' sotto pressione nelle ultime ore con il ritorno dei vacanzieri in centro Italia anche perché ci sono moltissimi migliaia di persone che tornano dalle vacanze al sud e alcune zone del centro Italia sono un po' intasate si parla della 14 fra all'altezza di Pescara si parla della 1 tra Fidenza e Parma quindi in Emilia Romagna al momento in Veneto dove alcune aree come il passante di Mestre o la Val Sugana sono solitamente sotto stress in questi giorni non si segnalano situazioni gravi ovvio che se dovesse mettersi in maltempo la situazione potrebbe peggiorare rendersi un po' più confusionarie diciamo allora andiamo da Guido Barbato a Bastia di Rovolon davanti al municipio Guido buongiorno al momento piove tanto per sapere perché stiamo facendo un po' la mappa di dove piove in Veneto in questo momento se lo chiedono tutti i nostri telespettatori è giusto che glielo diciamo buongiorno a tutti aveva iniziato poco fa una piotterella dritta senza vento adesso si è interrotta poi ogni tanto riprende infatti mi sono messo come ombrello ho cercato un albero allora quindi questa è la situazione ai piedi dei Colli Eugani ma sono praticamente sui Colli Eugani sono davanti al municipio di Rovolon che si trova nella frazione di Bastia quindi in zona ancora per pochi metri pianeggiante nei dintorni c'è stato un forte attacco del tempo del meteo ieri pomeriggio tra le 18.30 e le 18.50 che fortunatamente ha portato dei danni che si sono limitati agli alberi che si sono tranciati di brutto alcuni e per esempio alcuni sono anche proprio stati completamente sradicati abbiamo visto degli ulivi di 20-25 anni finiti con le radici all'aria e questo insomma dà un'idea anche della forza che ha avuto il vento da queste parti il tutto è successo principalmente in proprietà private o in zone che in particolare le strade che dalla frazione di Bastia in pianura salgono verso Rovolone capoluogo diciamo così quindi piuttosto impressionante vedere anche le strade collinari sterrate oggi abbastanza percorribili ma sicuramente ieri devono essere stati dei torrenti in discesa piuttosto impressionanti per chi abita in area collinare vive risiede e magari anche produce perché insomma l'economia dei colli eugani è anche questa quella legata all'ulivo alle viti dobbiamo anche andare a verificare una situazione di un vigneto che il vento avrebbe abbattuto a qualche chilometro da qui sempre in territorio comunale di Rovolone a caso mai stasera ne mostreremo insomma qualche immagine questi sono i vigili del fuoco del distaccamento di San Giorgio delle Pertiche giunti di rinforza i colleghi di Padova e immagino anche insomma di Este intervenuti in queste zone in particolare per mettere in sicurezza le abitazioni dagli alberi caduti all'interno dei giardini questo che avete visto per poco invece è l'assessore alla protezione civile Davide Cristofanon che ci ha accompagnato in questo giro seri danni anche all'interno del golf club Frassanelle che si trova sempre in territorio comunale di Rovolone che per due giorni terrà chiuso a causa appunto delle alberature che sono finite proprio sul green come puoi vedere da queste immagini proprio sul percorso di gioco queste diciamo sono le preoccupazioni maggiori l'agricoltura i residenti da sottolineare mi ha chiesto di tempo ma è giusto l'assessore alla protezione civile che le squadre di protezione civile del comune di Rovolone di Lozzo a Testino e la squadra proveniente dall'ufficio diciamo centrale della provincia hanno lavorato ininterrottamente dalle 19-19.30 di ieri sera fino alle 1.30 di questa notte per rendere percorribili le strade e mettere in sicurezza diciamo l'essenziale sono fuori dal municipio per ricordare a tutti i residenti di Rovolone colpiti da questo evento atmosferico che per fortuna ha risparmiato insomma le persone che l'invito è quello di fotografare il più possibile i danni diciamo alle proprietà private per vedere se in qualche maniera si riesce ad arrivare in questo momento credo non ci siano garanzie da parte dell'amministrazione comunale però l'intento c'è Guido ma questo è per quanto riguarda quel che è successo per le prossime ore c'è timore lì nella zona dei Colli o gli avvertimenti insomma tendono a lasciare tranquilli gli amministratori e i residenti c'è molta preoccupazione in vista dell'imminente vendemmia per esempio c'è molta preoccupazione di non trovare più i frutti pronti per essere tagliati e portati insomma in cantina proprio a causa magari di un vento e di una magari di un accompagnato da molta pioggia perché l'assessore ci faceva notare che oltre al vento molto forte ieri nella zona di Robolong e anche nella vicina zona di Montemerlo siamo sotto il comune di Cervarese e Santa Croce è caduta anche tantissima pioggia fa paura il vento che potrebbe danneggiare in particolare le colture del bignetti Guido allora noi ti ringraziamo per tutte queste informazioni per qualche minuto ancora noi saremo in diretta se ci saranno novità non esitare a contattarci speriamo che non ci sia bisogno nei prossimi giorni di un'altra serie di collegamenti interventi da questi territori già colpiti pesantemente in un momento molto molto delicato usciamo dal coronavirus stiamo uscendo almeno dal coronavirus i colliugani sono stati sotto l'occhio del ciclone per tante settimane non c'è davvero bisogno in questo momento anche di tutto questo grazie Guido Barbato buon lavoro grazie altrettanto a voi buona giornata noi torniamo in studio avete sentito questo era quel che è successo a Rovolone i timori degli agricoltori soprattutto delle cantine in questo momento sono timori che effettivamente potrebbero diventare un danno una realtà importantissima nelle prossime ore perché siamo nel pieno della vendemmia appena iniziata pareva anzi che la situazione fosse molto buona dal punto di vista della qualità del raccolto il vento la pioggia la grandine potrebbero devastare quello che di buono c'è nei vigneti abbiamo parlato anche con gli olivicoltori ma di questo magari parleremo questa sera nel Tg di Bassano e nei prossimi giorni la situazione del settore olivicolo invece è molto molto buona il prodotto di quest'anno ci dicono dovrebbe essere di grande qualità in tutto il Veneto quindi il timore di ennesime bordate di maltempo lascia tutti davvero spaventati speriamo di non dover commentare questa sera altri danni prima di chiudere andiamo a vedere restiamo in argomento coronavirus ma con un occhio di riguardo verso lo sport perché i tifosi gli Ultras del Padova hanno deciso di disertare l'amichevole con la Lazio a causa delle nuove norme sul distanziamento da applicare all'interno degli stadi Gli Ultraspadovani diserteranno la partita amichevole contro la Lazio ad Auronzo i tifosi della Fattori contrari alle norme imposte a causa dell'emergenza covid hanno deciso di non partecipare alla trasferta le modalità di acquisto del biglietto le capienze ridotte e il distanziamento sociale non possono coincidere con il nostro modo di vivere lo stadio hanno scritto in un comunicato stampa precisando che se le partite di campionato verranno organizzate e gestite allo stesso modo non saranno presenti insomma se l'aggregazione non verrà garantita cosa difficile in questo periodo visto che gli assembramenti sono vietati gli Ultras non parteciperanno alle partite del calcio Padova ma fanno sapere che continueranno ad organizzare ritrovi per le partite al di fuori dello stadio e anche gli Ultras hanno detto la loro siamo in un momento in cui moltissime categorie produttive ma anche i cosiddetti portatori di interesse sono preoccupati per la nuova normalità noi lo diciamo dal 21 febbraio da quando siamo qui in onda in diretta abbiamo fatto tantissime edizioni straordinarie proprio per cercare di scoprire con voi la nuova normalità nella quale dovremo vivere una volta che questa emergenza sarà finita cambieranno molte cose abbiamo visto il mondo della scuola ad esempio in grande confusione il mondo dello sport anche sono tantissimi i settori della vita civile quotidiana di ognuno di noi che sono stati stravolti e che verranno stravolti da quel che è successo e da ciò che accadrà quindi state con noi per scoprire anche queste novità da qui in avanti prima di lasciarvi vi ricordiamo che questo pomeriggio andrà in onda il film Piccoli Cowboy poi consueti appuntamenti con il tempo libero la ginnastica tutto quello che c'è da fare nel pomeriggio anche rimanendo in casa sperando che non dovrebbe piovere troppo torniamo poi con la nostra informazione TG Bassano TG Vicenza e questa sera ancora una puntata di Sport in casa per oggi dal Focus TG è tutto vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a questo pomeriggio con la nostra informazione per la nostra informazione